E senza dubbio il vero uomo mercato del Pescara. I 13 gol fin qui realizzati che sono valsi a Ciro Immobile, il titolo di capocannoniere del campionato, hanno attirato sul centravanti campano all'attenzione dei grandi club. La Fiorentina, ad esempio, per rimpiazzare Gilardino passato al Genova, aveva fatto un pensierino proprio sull'attaccante Biancazzurro, in comproprietà tra Pescara e Juventus. E propri bianconeri hanno di fatto ceduto la propria metà del cartellino di Immobile al Genova, che hanno a loro volta concesso alla Juve la metà di Boacci, altro gioiellino che tanto bene sta facendo a Sassuolo. Immobile però, nonostante le richieste, almeno fino a giugno da Pescara non si muove ed il 2012 per lui è iniziato alla grande. L'anno è iniziato bene, anzi più che è bene direi, vincere fuori casa fa sempre piacere, anche più di quando si vince in casa, perché ormai la vittoria nostra in casa è una cosa comunque che ci appartiene. Quindi siamo contenti dell'inizio, di come è andato l'inizio, sono contento di come è iniziato personalmente la stagione. Ho finito omaggiandomi due gol e ho iniziato facendoli. Con la mente Immobile è già proiettato alla super sfida di lunedì sera contro il Verona, squadra con cui ha messo a segno il primo centro in maglia bianca azzurra e a cui spera di dare un altro dispiacere. Molto importante per noi, abbiamo una settimana per prepararla bene, abbiamo la fortuna di giocare lunedì davanti al nostro pubblico e sicuramente ci darà una mano. Siamo convinti dei nostri mezzi ma anche sappiamo che il Verona è una buona squadra, sta facendo bene e quindi sarà una battaglia che vogliamo vincere. Siamo un bel gruppo, siamo uniti, forse è quella la forza in più nostra, siamo tutti giovani, corriamo tutti verso lo stesso obiettivo, quindi questa è la forza di volontà e questa è la cosa che ci fa andare avanti punto dopo punto e partita dopo partita. Quindi ci teniamo questo bel momento sperando che duri fino alla fine.